Ciao raga, come state? Spero bene. Dunque, nuovo videoblog. Oggi sono stata un po' in giro per Palau, perché mi piace molto stare in giro. Mi ho fatto un bel giro per Palau, non mi ho portato con me, non vi ho portato con me. Raga, c'era un casino di gente allucinante. Avrei che potuto organizzarmi il tutto, ma non me la sopporto domani a passeggio con me e faccio vedere un po' la vita vera di Palau. Me lo faccio vedere solo io, dove non vado. Sono come un cane, mi fanno vedere registrando col telefono e ci tengo davvero tanto a registrare in giro. Quando non avete idea di dove si è seduta, sul mio letto, perché mi sento più comoda. Per non stare sempre registrando l'altra parte, stavolta mi sono venuta da questa parte. Sono venuta direttamente qua, sul mio letto. Sono qua in versione casalinga, casalinga style, ma vabbè, mi piace stare così. Dunque ragazze, ragazzi, oggi ho fatto una bella passeggia a salutare i miei zii, che ovviamente non vi erano, perché erano già usciti con le barche, però ho visto una amica di YouTube che mi segue su YouTube e che sa che faccio delle riprese. Non la nomino per privacy, perché non so neanche se vuole. Però ci tengo a dire che lei mi segue su YouTube, sa che mi rimanisco delle riprese, come appena lei. Soprattutto se ti piace guardare i miei video, perché non so che ti piace guardare i miei video. Poi vabbè, c'è un'altra mia zia, Donatella. Lei sì, non è partita per le isole, ma ha preferito stare al fresco, nelle uffici di imparcazioni. Con questo cosa volevo dire? Mi piace uscire le parole, aprirle un po' la, come si può dire, la solita tintarella. La tintarella è bella, è vero, non bisogna esagerare con il sole, perché con il sole non fate caso perché sono truccata, però mi è piaciuto molto il fatto. Non sto ancora andando al mare, ma questo è, già, questo è il trucco di oggi. Non so, non mi può piacere, ma mi piace e mi diverte comunque a fare dei trucchi. Non l'ho fatto in diretta con voi perché, raga, già so che mi linciate tutte le volte che mi faccio il trucco, ma me ne frega un po' di meno che niente. Quindi, appena posso, farò anche un video di trucco e voi direte perché non lo devi fare? Fallo, se ti interessa farlo. Appunto lo farò, appena riesco lo faccio. Per adesso voglio dedicare ai video di pulizia, ai video di chiacchiericci come questo, e anche ai video su quanto la spesa, e non so, anche piatti, eccetera. Come per esempio video, che ne so, recensioni, ste robe così, video skincare, makeup, vabbè, makeup l'ho già detto, video recensioni dei prodotti per l'igiene della casa, per i prodotti dell'igiene, della cura per la persona, o della persona come Dio si voglia, e tante altre cose. Se sentirete, vi avverto già che oggi forse si riesco a ottenere i video. Ho detto già a una mia amica, che ci seguiamo a vicenda su YouTube, che non ho tempo di fare un bel niente. Cioè, registro, però, come il video è fatto bene, è montato bene. Oggi vediamo se mi riesce, o se, per l'ultimo bufala, che dico sempre, vabbè, si vedrà. Intanto, tra poco, vi preparo una cosa, dopo questo video, cioè, dopo questa clip, e vi preparo un bellissimo ASMR. A dopo. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. ASMR. L'ASMR. Troppo bello, io dico. Sembra una mela, questa. Sofri, dato prima, molto buona. L'ho malabro, perché un po' di angela, ragazzi. Però questo è molto bello, vedete. Vabbè, una cosa così. Questa è la scatola del mio iPhone, registrando questo momento. Niente, se lo abro. Facci la patica, poi, tutto è forte, anche di questa scatolina. Vedete? Questa è la scatola. Eccolo qua. 180 g. Mi sto grattando la schiena. Plurito, poi, ma va bene. Fa pochi minuti fa. Sono ancora pulito, ma va bene. Tagli, come al solito. Ciao. Ante, plurito, ma... Lascia perdere. Della uccirina. E uccirina. E uccirina. Ciao. Oggi a pranzo ho mangiato un topo di tonno, una scatoletta di tonno. Vedrete se è quella, no? Insalata di pomodori. Conne, cocomi di ponisi. Niente Molto bene e mi preso anche un bel caffè Un like di supporto Ciao Ciao